E lei, Michou, che cosa ne pensa? Ah, beh... Beh, penso che è molto più facile essere contro il razzismo quando si abita a Nui che quando si abita a Saint-Denis, eh? Io, per esempio, sono di Saint-Denis e, beh, sono razzista. E voi invece... Voi vivete in questa casa e non siete razzisti per niente. Francamente, Michou, lei si considera un razzista? Ah, sì, francamente, sì. Io con gli stranieri ci vivo insieme e non li posso soffrire. Non fanno niente, sono sporchi, ci fregano le macchine. Gli danno pure le case prima che a noi. Guadagnano più di noi con tutti i sussidi che hanno. A scuola i nostri figli non imparano niente perché il 70% è di stranieri che non parlano una parola di francese. Ci rompono con il loro ciodore e dovremmo pure pagare per costruirgli le moschee. Beh, è tutta a un limite. Ma insomma, che ne è del diritto alla diversità, della tolleranza, dell'ideale, della Francia terra d'asilo? Boh, io che ne so che ne è. Non ne so niente io. Ma è orrendo essere razzista, è terribile, immorale. Ah, beh, sì, ma uno mica può cambiare. Allora lei vota le penne. Ah, no, non posso votare. Non ho fissa di mora. No, appunto, perché sono cinque anni che mio fratello ha chiesto un Trevani, ma siccome il figlio è morto non glielo danno. E allora perciò mi trovo senza fissa di mora perché la moglie ha il cancro e dall'ospedale l'hanno rimandata a casa. Sì, vabbè, ma insomma, se lei votasse, voterebbe le penne. Ma tutti gli arabi che conosco a San Denis stanno in cinque o sei vani, sa? Hanno molti bambini, per forza. Quello che lei non capisce è che non sistemerà i suoi problemi personali, l'essere razzista. Ah, beh, sì, ma quello che capisco è che tre quarti del pianeta stanno nella merda. Allora cercano di piazzarsi dove c'è meno merda, cioè qui da noi. E poi una volta qui bisogna che qualcuno si stringa per fargli posto e fargli sopravvivere, ovvio. Vabbè, appunto. Ah, sì, ma finora chi si è stretto per fargli posto sono quelli di San Denis, mica quelli di Nui... E poi quelli di San Denis si devono stringere continuando a sorridere, perché sennò è immorale, vero? Mi dica un po', Michou, non sarà un po' comunista? Ah, no, non sono comunista, sennò è da un pezzo che avrei avuto la casa, è pure mio fratello. E allora si sbrighi a prendere la tessera del partito prima che scompaia definitivamente. Beh, comunque io ci ho già provato, e parecchie volte anche, ma ogni volta mi hanno cacciato. E perché non riuscivo a seguire la linea, facevo troppi zizzag, e per avere una casa bisogna far vedere che si segue la linea. Ma io non sono molto intelligente per farlo, sono un imbecilo. Ma no, ma no.